Si è riunito ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Fermo, presieduto dal Prefetto Pagliuca, alla presenza del Procuratore della Repubblica Seccia e di tutti i vertici delle Forze dell'Ordine. Erano presenti anche il Presidente della Provincia Cesetti, il Sindaco del Capoluogo Brambatti e il Presidente della Camera di Commercio di Battista. Il Questore e gli altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine hanno fornito assicurazione in ordine ad una tendenziale diminuzione di furti e rapine nell'anno 2014 su scala provinciale rispetto agli anni 2013 e 2012, garantendo comunque la continuità di un'intensa attività di controllo nel territorio in funzione preventiva attraverso l'impiego di tutte le risorse disponibili. Nel corso della riunione è stata ribadita l'importanza per garantire sempre maggiori livelli di sicurezza di una sinergia tra tutte le forze di polizia presenti sul territorio, comprese le polizie locali. In quest'ottica si è concordato anche sull'importanza di ricercare ed attuare nuove forme di costruttiva collaborazione tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale. È stato quindi deciso che ulteriori incontri saranno programmati con tutti i soggetti interessati per avviare un sistema di sicurezza partecipata con il coinvolgimento del mondo economico. Il prefetto ha infine ringraziato i presenti, evidenziando come il comitato costituisca una significativa occasione per uno scambio di valutazioni reciproche delle situazioni e delle questioni inerenti alla sicurezza del territorio.